auto crocette dal 1987 la concessionaria ufficiale bmw per torino e provincia dove in via moncenisio otto moncaglieri a pochi passi dalla torino savona e dalla tangenziale sud tantissime le proposte che vi aspettano oggi scopriamo insieme la bmw i4 il primo veicolo del marchio elettrico incentrato sulle dinamiche di guida la bmw i4 è stata concepita con un'architettura per un sistema di propulsione puramente elettrico la batteria è ultra sottile ad alto voltaggio progettata appositamente per la bmw i4 è posizionata in basso nel pianale del veicolo con una capacità di 83.9 kilowatt ora la cc u consente l'utilizzo di stazioni di ricarica rapida con una potenza fino a 200 kilowatt pensate fino a 164 chilometri in soli dieci minuti vetri a isolamento acustico sedili sportivi volante sportivo di serie e poi troviamo la console centrale con pannello di controllo da design moderno per la leva del cambio bmw controller ampio portellone posteriore di serie con meccanismo di apertura e chiusura elettrico a partire da 60.900 euro oppure in alternativa con l'opzione why buy e voi a partire da 610 euro al viene a progettare la tua bmw i4 insieme a noi vi ricordiamo che il 5 e 6 settembre ci sarà il prelancio della nuova bmw x1 che sarà proposta anche in una variante elettrica denominata i x1 la terza generazione sarà sviluppata su di una piattaforma evoluta e in condivisione con la nuova mini countryman naturalmente anche con la trazione integrale vi aspettiamo dunque presso la concessionaria auto crocetta a moncaglieri ed ella